Sì, per come si era messa sicuramente. È chiaro che se uno va a fare un'analisi della partita credo che nel primo tempo qualcosa di più avremmo meritato, però l'episodio ci ha condannato e poi siamo stati bravi a recuperare una partita dove comunque anche Crotone ha avuto occasioni per chiuderla però penso che la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi abbia premiato questi ragazzi che sono incognabili per quanto riguarda l'atteggiamento, perché penso che solo l'atteggiamento messo in campo ha permesso di recuperare una partita contro una squadra ben organizzata bisogna guardare l'aspetto positivo, sicuramente da migliorare perché non è possibile magari creare tante situazioni e non crederizzarli, anche se devo dire che alcune sono state un po' fortuite tipo la deviazione che comunque è andata a sbattere sulla traversa, a differenza magari che non le deviazioni vanno in porta però altre circostanze, mi viene in mente Eric, Lanini dove era solo e poteva stoppare la palla e altre situazioni bisogna migliorarle, bisogna avere più voglia e determinazione in entrambi le fasi sia quando magari c'è da concludere sia quando magari c'è da proteggere un risultato grazie a tutti